Quelli che poi risultano colpevoli rimproverali alla presenza di tutti perché anche gli altri abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti di osservare queste norme con imparzialità e di non fare mai nulla per favorire qualcuno. Così dalla prima lettera a Timoteo, il capitolo, il quinto, i versetti sono il ventesimo e il ventunesimo.